L'Associazione Commercianti Torino-Via Roma, in occasione delle festività natalizie ed in collaborazione con ASCOM e Confcommercio di Torino e provincia, sull'onda del successo degli scorsi anni, ha promosso la terza edizione del Charity Shop, nel centralissimo spazio di Via Gramsci, per sostenere un importante obiettivo della fondazione Crescere Insieme al Sant'Anna Onlus, ulteriore tappa del progetto di potenziamento strutturale portato avanti da un anno dal reparto di neonatologia e di terapia intensiva dell'ospedale torinese. Complessivamente sono un centinaio i negozi, non solo di Via Roma, ed una ventina le aziende che hanno aderito all'iniziativa, che proseguirà sino a domenica 16 dicembre. Quest'anno si è complessivamente allargata la gamma dei prodotti messi a disposizione dai negozi e dalle aziende. Accanto a quelli di enogastronomia locale, cioccolatini, caramelle, panettoni e ai profumi, ai prodotti cosmetici, ai gioielli e bigiotteria, così come ai capi di abbigliamento che la fanno da padroni, si sono aggiunti anche oggetti di arredamento, fotocamere digitali, opere d'arte e quant'altro. L'intero ricavato sarà destinato all'acquisto di un posto di terapia intensiva neurologica, incubatrice, monito, respiratore, apparecchio per ipotermia e NIRS, strumento per monitorare la circolazione cerebrale, il cui valore commerciale si aggira attorno ai 95.000 euro. Si tratta di un acquisto molto importante nell'ottica di migliorare sempre di più le condizioni, la qualità e le possibilità di vita dei piccoli degenti del reparto di terapia intensiva dell'ospedale, che ogni anno accoglie 8.000 neonati provenienti da tutta la regione.